Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita che Adamo non pote toccare, ora è chiesto a noi torta. Cari amici, a febbraio abbiamo fatto due video molto interessanti sulla Beata Madre Maria di Gesù, fondatrice di questo monastero dedicato all'adorazione eucaristica, al Sacro Cuore di Gesù, al Tabernacolo e della Beata, appunto, Suor Maria de Luil Martini. Io devo confessare che non sapevo che ci fosse una comunità a Roma e che appunto i suoi resti venerabili sono lì nella chiesa del monastero di Via dei Villini 34 a Roma, subito dopo Porta Pia per chi viene dal centro di Roma, dalla stazione Termini magari, portandosi verso, appunto, Porta Pia e poi c'è questa traversa, questa Via dei Villini dove lì c'è questa comunità. Io non lo sapevo, l'abbiamo scoperto con Massimiliano, la Anna e l'Angelica che siamo andati in un piccolo pellegrinaggio l'11 maggio per preparare anche, appunto, le consacrazioni del 13 maggio alla Vergine di Fatima. Ecco, abbiamo fatto quel piccolo pellegrinaggio, cominciato da Santa Maria Maggiore, la Messa, la Venerazione a San Pio V e alla Madonna Regina della Pace, la statua che c'è all'interno della Basilica fatta erigere proprio da Benedetto XV per ottenere la pace per il conflitto della Prima Guerra Mondiale. Come vedete è un po' tutto collegato. Ecco, io ho scoperto che c'era lì, pensavo che fossero a Venezia. Ora, può sembrare una curiosità di poco conto? No, perché io pensavo così che non ci sarei mai più potuto andare a venerare questa beata che avevo scoperto da poco quando ero a Venezia. e invece, io tornando a Roma, ho e avrò questa opportunità. Quindi abbiamo avuto un colloquio con la Madre Generale, la Madre Superiore, veramente edificante, veramente bello. Con Massimiliano, l'Anna e l'Angelica facevamo questa considerazione, però, che bello. Sentirle parlare, i consigli che ci hanno dato, aggiornatissime sulle vicissitudini nella Chiesa e nel mondo, tutti questi problemi, ma di una serenità che ci siamo resi conto che è lì che si svolge la realtà della vita, mentre siamo noi che viviamo nel mondo a vivere, purtroppo e spesso, l'illusione di una vita. Le illusioni, le chimere, i castelli in aria e tante cose, loro vivono la realtà. Noi pensiamo che loro vivono in un mondo loro, campato in aria, esattamente il contrario. È esattamente il contrario, loro ci hanno dimostrato, ci dimostrano tutte le volte che si può parlare con qualche monaca di clausura, lo stesso tempo fa con delle clarisse, con delle dominicane di clausura. Loro vivono la realtà, siamo noi che viviamo le illusioni. Ci affanniamo, ci affanniamo per le cose della vita. Uno dice, beh vabbè loro non hanno i problemi che abbiamo noi, beh insomma le bollette ce l'hanno anche loro da pagare, da mangiare lo devono comprare anche loro, anzi loro hanno delle manutenzioni che sono assai più grandi del nostro appartamento. E il problema è che anche loro hanno le malattie, anche loro hanno la solitudine, anche loro hanno i loro problemi, persecuzioni, cose positive, negative, anche loro. solo che loro vivono la quotidianità nella realtà del perché nasciamo e dove siamo diretti, perché si muore. Qual è la nostra meta? Noi invece che ricordiamo sempre a parole, sì siamo del mondo ma non del mondo, siamo nel mondo ma non del mondo. Lo diciamo a parole, perché in verità non campiamo così. Quindi la clausura ci fa capire cosa significa davvero mettere Dio al primo posto e affrontare i problemi, anche le bollette da pagare, mettendo Dio al primo posto. Questo ci hanno rivelato anche i grandi fondatori, tutte le varie opere di carità che sono sorti all'interno della Chiesa e nel mondo civile. Guardate che prima dello Stato soltanto la Chiesa dava vita a questi centri. Abbiamo ricordato Bartolo Longo, che cosa ha fatto della nuova Pompei, con la nuova Pompei, no? Un centro di modernità spaventoso, dove però non mancavano tutte le fondazioni di carità per occuparsi della gente più debole, indigente, bisognosa. Molto tempo prima che ci arrivasse lo Stato. Va bene, allora noi abbiamo fatto due video, uno il primo, sempre a febbraio, dove abbiamo parlato di madre Maria di Gesù del Will Martini, di questa grande beata, con il suo motto, mettiamola così, no? Cristo regna, Gesù deve regnare, Gesù deve regnare. Se Gesù non regna, scusate perché sto cercando i vari punti di riferimento che abbiamo fatto, va bene, adesso non lo trovo naturalmente, comunque, Gesù regna. E Gesù deve regnare, perché se Gesù non regna, chi regna al posto suo, scusate? Nelle nostre vite, nella società? Qui ci rifacciamo al motto di San Pio X, no? Instaurare, omnia, in Cristo. Tutto dobbiamo instaurare in Cristo. L'uomo deve essere instaurato in Cristo, la società deve essere instaurata in Cristo. O il Cristo o il caos. O il Cristo o il caos. Non c'è la via di mezzo. La via di mezzo sono i famosi tiepidi, quelli che si fanno gli affari loro, che dicono, beh, io mica so contrario, però loro sono liberi, facciano tutto quello che vogliono, come io sono libero di fare quello che voglio. E quindi non si combattono però le cattive inclinazioni, le leggi inique e così via. Allora, quindi, un primo video l'abbiamo fatto sulle parole di Madre Maria di Gesù Martini. Scusate, ma io quando c'è qualche cognome straniero, qualche cosa, vado in pallone, perché sono davvero un ignorante, nelle lingue in tutto. Allora, quindi mi impappino. Abbiamo fatto questo, Gesù deve regnare. Gesù regna, deve regnare. Ed è un po' il motto che è poi quello che scaturisce dal Sacro Cuore di Gesù, dalle apparizioni di Santa Maria alla Cocque. Vi ricordo che queste fondazioni sono molto legate tra loro, hanno tutti a che vedere con le apparizioni del Sacro Cuore di Gesù. Poi abbiamo fatto un secondo video che riguarda proprio questo amore della Madre Martini al papato, alla sede Petrina. Addirittura arriverà a fare una petizione, perché era in dubbio, tra molti cattolici, in discussione, se fare o non fare, se era giusto che Pio IX avesse chiesto questa cosa dell'infallibilità, loro naturalmente appoggiano il Papa e quindi raccoglieranno firme, farà raccogliere firme per sostenere il Pontifice. Ecco, quindi i Santi, i Santi ci insegnano come dobbiamo operare in questa valle di lacrime, semplice. Tutta questa pappardella che non è sprecata, perché anche l'esperienza della nostra vita personale, con questi cenacoli di preghiera, che adesso abbiamo affidato alla Madre Superiore, che è stata veramente gentilissima, perché ci porterà all'adorazione eucaristica, e noi abbiamo promesso di pregare per loro e quindi per queste vocazioni. Ecco, siamo andati lì dalla Madre, ecco, ve lo faccio vedere così, ecco, siamo andati che c'è la tomba della Madre Martini, eccola, quant'è bella, ma hanno una pace questi Santi e ci si starebbe ore, guardate, ore, ecco, che preghi per noi la Beata Martini e aiuti anche per le vocazioni. allora adesso vorremmo fare un ulteriore passaggio dai suoi scritti, qui prendiamo un pezzo anche della sua vita, che è molto, molto interessante. Allora, ecco, scusate, questo, prendiamo anche da quest'altro libro, La mia vita nel tuo cuore, ecco, questo genere di libri, di documentazioni, eccetera, voi potete avere, se scrivete, o andate a trovare, se vi trovate a Roma, direttamente al monastero, che sono gentilissime, suonate, aspettate con delicatezza, vi aprono, c'è sempre qualcuno che apre, e quindi, e anche entrando nella chiesa, troverete davvero molto materiale, monastero di Roma, via dei Villini, 34, ecco, bussate, e vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato, ed effettivamente, è così. Allora, prendiamo da questo testo, adesso, un paio di riflessioni, dalla sua vita, perché ci aiutano a capire, guardate, cioè, voi vedrete, l'attualità, anche legata, al nostro fare, e quando noi, consigliamo, non solo la questione, consigliamo, dobbiamo, la questione della mistica, della riparazione, quant'è fondamentale, e come dobbiamo comportarci, in questo tempo, siccome adesso ci sono anche le consacrazioni, al Sacro Cuore di Gesù, stiamo entrando nel Sacro Cuore di Gesù, ecco, che ci pare opportuno, riprendere, e Madre Maria di Gesù, la Beata Martini, perché è importante, quello che ha detto, e ha fatto. Allora, Sacro Cuore, 1873, qui, vabbè, parla della fondazione, allora, davanti all'altare di Gesù, sacerdote e ostia, è nata, così, la famiglia delle figlie, del cuore di Gesù, e il 25 giugno, Madre Maria, racconta ad un'amica, sentite che parole, siamo in porto, peccato che non ci sia anche lei, arrivai qui martedì sera, mentre le altre arrivarono, chi, mercoledì, chi, giovedì, e siamo in otto, abbiamo già il Santissimo esposto, dieci ore al giorno, per l'adorazione, che bello, se fosse qui anche lei, e vi ricordiamo che non era tanto facile, avere l'adorazione eucaristica perpetua, anche perché erano tempi difficili, e bisognava proteggere il tabernacono, con il suo contenuto, abbiamo vestito l'abito religioso, nella festa del Sacro Cuore, giorno in cui fu aperta la cappella ai fedeli, c'è stata un'arresta di gente, essendo la sola chiesa della città, ad avere l'esposizione del Santissimo, l'attualità che intendo è anche questa, no? Quante chiese possono esporre, o hanno oggi il Santissimo? Sono state tante le visite, perché tutti si interessavano delle francesi, loro erano suore francesi appunto, è arrivata l'innunzia apostolica, bene, tutti hanno benedetto l'inizio dell'opera, e dice, ora a stento, oso, oso, scusate, oso a stento svolgere il ruolo che devo necessariamente avere, Gesù ha finalmente in piccolo ciò che desidera, capisce la nostra gioia? Noi quando facciamo e apriamo, alimentiamo questi cenacoli di preghiera, o facciamo i cenacoli di preghiera della diretta, dobbiamo sempre dire questo, Gesù e Maria, Gesù, Giuseppe e Maria, hanno finalmente in piccolo ciò che desiderano, capite la nostra gioia? Mamma mia! E così si mette subito al lavoro, madre Maria di Gesù, condividendo con le sorelle la gioia e il dono compiuto a Dio, e le fatiche per l'assetto completo della casa, comincia così la sua opera di formazione, eccetera, eccetera, bene, però non è ancora passato un mese, dalla fondazione cominciano i calvari, i genitori si lamentano, perché sono rimasti da soli, lei è lì e quindi addirittura chiamano il vescovo, fanno intervenire il vescovo, e padre Calas, il gesuita, il suo padre spirituale, un santuomo davvero, e lo stesso Monsignor De Camps, arcivescovo di Malines, praticamente non glielo possono proprio ordinare, ma con il loro modo di fare, gli dicono che è bene che lei ritorni a casa, quindi lei molla tutto, e obbedendo va dai suoi genitori ad accudirli, si prende cura di loro, e le vengono naturalmente i dubbi, ma è giusto che io faccia questo, cioè che vada a fare la fondazione, e non mi occupi piuttosto dei miei genitori, guardate, e invece sarà proprio il padre Calas, che pur consigliandogli di prendersi, consigliandole di prendersi cura dei propri genitori, però le dice pure questo, ella sarà il canale della grazia per le anime, ma un canale inanimato, Dio passerà attraverso la sua anima, senza che lei se ne accorga, avvicinandosi a lei, si troverà Gesù, ma ella non ne saprà nulla, bisogna pure che qualcuno meriti la grazia alle anime, in lei tutto deve essere per loro, e l'ha sofferto molto, e soffrirà ancora di più, le anime bisogna nutrirle, con il proprio sudore, e con il proprio sangue, mistica della riparazione, quanti di noi si trovano con Gesù a fianco, accanto, dentro, vi ricordate la battaglia di Santa Caterina? Ma dov'eri Gesù mio? Ma Caterina, io ero in fondo al tuo cuore, se non fossi stato lì, tu non avresti vinto alcuna battaglia, quante volte Gesù è con noi, e non ce ne accorgiamo, guardate che sono di un'attualità, e di una profondità queste parole, che ci fanno capire, che cos'è la consacrazione al cuore di Gesù, per noi laici nel mondo, la sofferenza, ma voi pensate, ragionavamo appunto sempre con Massimiliano, l'Angelica e Anna, in questi pellegrinaggi, mini pellegrinaggi che abbiamo fatto, una grazia veramente, abbiamo pensato anche a questo, la sofferenza, ma se voi ci fate caso, non è la goliardia che ci fa scoprire Gesù, noi scopriamo il Dio, vivo e vero nella sofferenza, non quando siamo spensierati, immersi nei nostri bagordi, o anche divertimenti leciti, attenzione, anche nel divertimento lecito, ecco perché noi siamo contrari, noi, i Santi, la stessa voce della liturgia, del culto liturgico, non è il battimani, non è l'allegrezza nella messa, non è il ballare, quando si fanno riferimenti ai salmi davidici, dove ballavano, ma quello, i balli lì, non era nel culto, tant'è vero che il popolo che ballava, non era nel Santa Santorum, era fuori la chiesa, era fuori, lì ballava il popolo di Dio, fuori, e ballavano i salmi, i salmi, non, eh, come si chiamano, io li chiamo, le vere pandemie, di Jerusalem, eccetera, i salmi davidici sono un'altra cosa, il ballo significava altra cosa, ma non era nel Santa Santorum, nel Santa Santorum si piange, nel Santa Santorum si impetra, con Cristo in Cristo e per Cristo, si supplica, si condivide la croce, si sosta su quel calvario, è come una moviola, siamo riportati indietro nel tempo, a duemila anni fa, in quel venerdì santo, su quel calvario, su quel Golgotha, questa è la messa, non è la discoteca, capite, perché è nella sofferenza, che si trova Gesù, ma non perché dobbiamo soffrire, perché noi siamo in una valle di lacrime, e invece vogliamo esorcizzare, questa valle di lacrime, con una discoteca a cielo aperto, e non si riesce a capire, perché invece, quando nel momento in cui, si accetta la vera croce, la vera sofferenza, è lì che il Signore ci consola, come fu consolato, nel Gelsimani, vi ricordate quel passaggio, il passaggio nel Gelsimani, riguarda ognuno di noi, prima devi sudare sangue, prima si suda sangue, solo sudando sangue, arriva l'angelo consolatore, noi invece pretendiamo, l'aiuto degli angeli, senza sudare sangue, noi oggi vogliamo tutte le comodità, non vogliamo sudare, quindi quante volte, Gesù c'è passato a fianco, e non ce ne siamo accorti, e che deve essere anche così, ricordatevi Santa Caterina da Siena, quante volte anche noi, Gesù ma dove sei, dove eri, sentiamo questa risposta di Gesù, ma io ero in fondo al tuo cuore, sono lì, se no tu manco te la faresti questa domanda, che si pone queste domande, ha già Gesù nel cuore, se se le fa con rispetto, non con sfida, e non con rabbia, non con rancore, non con l'odio, ma certamente con quello sprint, con quella cosa forte dei santi, che con il battesimo, come dice San Paolo, che ci chiama popolo santo, lo saremo tutti in virtù del battesimo, solo che i capitomboli che facciamo sono tanti, è bellissimo, e l'ha sofferto molto, ma soffrirà ancora di più, le anime bisogna nutrirle con il proprio sudore, e con il proprio sangue, ricordiamoci queste parole, perché sono fondamentali, per capire, quello che dobbiamo fare noi, oggi, bene, allora, ecco, e questa è bellissima, perché, qui dice, nell'avvicinarsi la festa dell'assunzione, della Vergine Maria, il 13 agosto 1873, l'assunta al cielo, lei scrive una lettera alle sorelle, ok, sì, alle sue figlie a Berchem, una lettera che racchiude una stupenda sintesi, non solo del suo stile di vita, ma anche una forma catechetica, e di alta teologia, sentite questa catechesi praticamente, bellissima, allora, poiché tutte portate il nome benedetto, della Santissima Vergine, Suor Maria, tutti gli istituti religiosi, voi pensate, anche i frati dominicani, no, anche molti sacerdoti, molti frati, ecco, usano mettere avanti al nome, Maria, al nome proprio, Maria, ecco, è proprio indicativo della protezione e consacrazione alla Santa Vergine, ecco, quindi, 15 agosto, venerdì prossimo, sarà in qualche modo, sarà in qualche modo la festa di tutte, la nostra dolce Madre Celeste vi benedica, e vi formi, e le sue cure materne, facciano di voi altrettanti Gesù, anime offerte, incessantemente nel sacrificio di Gesù, e veramente unito a questo sacrificio perfetto, l'Eucaristia, la Vergine Santa ci ha lasciato in eredità, a noi particolarmente, gli ultimi anni della sua vita, ora di che fu occupata l'anima e la vita della Madonna, in quegli anni pieni di misteri, troppo poco meditati, l'Eucaristia, il Calvario e la Chiesa. L'Eucaristia, dove essa ritrovava il suo Gesù, e lo possedeva come noi lo possediamo, lo amava, lo adorava, lo serviva e lo offriva per le mani del Sacerdote, come purtroppo noi non sappiamo, e spesso non vogliamo amarlo, servirlo, offrirlo. Il Calvario, i cui sanguinosi ricordi riempivano la sua anima, dove, dopo aver visto soffrire e morire Gesù, straziante dolore, sempre vivo nel suo cuore di madre, andava ancora a raccogliere il sangue e i meriti del suo divin figlio, per offrirli al Padre Celeste. E' il Calvario, dove la sua anima santa si offriva immolata, sacrificata con Gesù. E' la Chiesa. La Chiesa e gli Apostoli, che essa aiutava, sosteneva, formava, con le sue incessanti preghiere, e una prodigiosa e nascosta immolazione. E' questo con un amore e uno zelo attinti nel divino incendio del cuore di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco il modello, sorelle mie, guardatelo, meditatelo di continuo, e imitatelo. Mamma mia. Ecco, questa è una vera e grande teologia che sgorga dalla contemplazione viva e penetrante del mistero di Cristo stesso, al quale in primo luogo è associata sua madre. E' la luce e il fuoco che discende nel cuore di Maria de Luil Martini e la invade come un cristallo da cui dilaga, illumina e riscalda coloro che la avvicinano. E così scrive ancora le sorelle rimaste a Berchem. Unione continua, sorelle care, unione continua al sacrificio dell'altare, offerta spirituale, ininterrotta del calice innalzato dalle mani del sacerdote. Ricordo costante dei dolori del Salvatore crocifisso e specialmente del martirio del suo cuore adorabile. Il Calvario c'è ancora. La croce è inalberata sul Calvario eucaristico. Gesù si offre, si immola continuamente, ma misticamente, e siamo noi che dobbiamo essere in certo modo le vittime cruente di questo sacrificio. Ecco, care sorelle e amatissime figlie, la nostra missione. Ricorriamo a colleghe onnipotente nell'intercessione. Mamma mia! C'è di che tremare. Questa è la mistica della riparazione. Ma vedete, tutti i Santi parlano così. Tutti i Santi vivono così. Non è un optional. Non si può stare con Cristo senza il Calvario, senza il Gelsemani. Non si può pretendere la consolazione degli angeli se non stiamo patendo qualche cosa. Invece, vedete, il nostro patire, noi l'abbiamo chiuso e rinchiuso esclusivamente nelle bollette da pagare. Importantissime, ovvio, l'affitto, altrimenti ti ritrovi in mezzo a una strada. E quindi la ricerca di un lavoro, se no non si può mettere su famiglia. Io penso, noi pensiamo spesse volte, preghiamo per loro i giovani che sono veramente in profonda crisi. Vi abbiamo consigliato, credete davvero nelle novene, nella preghiera. L'abbiamo fatto col Bartolo Lungo. Pregate quella novena che è potentissima, la quale ricorreva Padre Pio per risolvere i suoi problemi. Padre Pio ricorreva a quella novena. Certo non sono magie. Padre Pio come le ha pagate le grazie che riceveva? Oh sì, ha fatto miracoli Padre Pio, anche in vita. Ha concesso molte grazie supplicando il Signore. Ma come le ripagava? Ma che vi credete che era gratis ciò che faceva Padre Pio con il Signore che otteneva da Gesù quello che otteneva? Come lo ha pagato Padre Pio? E lo stesso Don Dolindo Ruotolo per avere quelle grazie che riusciva a far avere agli altri. questi sacerdoti, questi santi come pagavano sulla loro pelle? Noi riceviamo le grazie se però siamo in grado di unirci a quella passione di Cristo, a quel cuore. è lì che compiamo miracoli. Ma non perché li facciamo noi con le nostre mani e con la nostra brutta faccia. Ma perché se rispecchiamo riflettiamo in noi quella luce, quel cuore, quelle piaghe. Chi in un modo, chi nell'altro. noi dobbiamo pensare alle anime da salvare al primo posto devono esserci loro altrimenti il Signore non... vi ricordate Giacomo? No, o Giovanni? Io non mi ricordo mai. Pregate, cioè vi lamentate perché pregate e non ottenete. E certo che non ottenete perché pregate male. Perché chiedete quello che vi fa comodo. Per quello non ottenete. Ecco, e poi c'è un altro bel libretto che hanno fatto le suore che noi vi consigliamo tratto del suo diario. Vi ricordiamo che potete ottenere tutto andando a trovare Monastero di Roma via dei Villini 34. Ecco, le figlie del cuore di Gesù. Figlie del cuore di Gesù. Monastero Roma via dei Villini 34. Andatele a trovare perché non può naturalmente scriveteli e sicuramente vi faranno avere qualche materiale. Tra l'altro c'è anche la storia bella dello scapolare. Avevamo detto che l'avremmo fatto speriamo di mantenere la promessa tra qualche giorno. Ecco qui e quindi non avere che un amore Gesù. Ecco, anche questo molto bello. è la raccolta dalle sue lettere. E adesso vi leggiamo questa brevissima del 11 agosto 1872 perché guardate ci riguarda. È pazzesco sono di un'attualità che vi devo dire. Questa appunto la beata madre Maria di Gesù del Will Martini sentite che cosa diceva. non è che per Gesù con Gesù e in Gesù che noi possiamo glorificare Dio. Senza l'unione a Gesù i migliori atti non rendono alcuna gloria a Dio. Occorre dunque offrire Gesù al Padre Celeste per rendergli gloria. vi ricordiamo che ci sono quelli che pretendono di separare queste feste della Santissima Trinità una festa solo al Padre una messa solo per il Padre una per lo Spirito una per il Figlio il Figlio che fa se offre a se stesso non lo so fa ridere un po' la cosa ma scusate la messa che cos'è? La messa è l'offerta di Gesù al Padre è il massimo cioè oltre non c'è nulla non c'è nulla che superi il sacrificio eucaristico non c'è nulla di sacrificio perfetto da offrire al Padre dice ma noi noi ci uniamo a quella patena la patena è quel piattino dove il sacerdote depone l'ostia durante l'offertorio che poi sarà consacrata e diventa ecco il corpo e il sangue di Cristo noi veniamo deposti lì con Cristo in Cristo per Cristo chiaro? ecco perché dobbiamo essere confessati dobbiamo stare attenti a non fare comunioni sacrileghe dobbiamo stare attenti a non fare profanazioni sacramentali confessionali eucaristiche bla 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 come vedete questa è pura dottrina è puro catechismo anzi i santi facevano catechismo con queste quattro parole che dicevano perché ce l'avevano nel cuore lo volevano quindi occorre dunque offrire Gesù al Padre Celeste per rendergli gloria se vogliamo aggiungere la nostra piccola nota al concerto di omaggi e di lodi che Gesù offre immolato al Padre occorre perderla e fonderla questa nota con Gesù in Gesù per Gesù la gloria del Padre è di ricevere in continuazione l'oblazione del suo figlio immolato e in suo figlio quella di tutti gli uomini salvati rigenerati ridiventati i suoi figli uniti all'immolazione di Gesù con Gesù che tutti gli uomini lontani dal Padre a causa del peccato diventino suoi figli in Gesù Cristo e che essi siano fatti con Gesù un medesimo olocausto una medesima vittima immacolata a gloria del Devine Padre e tutto questo per mezzo di chi avviene dello Spirito Santo la Messa è il cuore della vita trinitaria non si può pensare ad avere una Messa solo per il Padre chi esce da questa unione a Gesù esce dal fine e dai frutti del suo divino sacrificio chi esce da questa unione a Gesù esce dal fine e dai frutti del suo divino sacrificio così ogni palpito del nostro cuore deve essere un atto di offerta di Gesù e di unione al suo sacrificio perpetuo per mezzo dello Spirito Santo a gloria del Divin Padre nascosti perduti in Gesù rivestiti di Gesù talmente uniti a Gesù che la sua vita diventi la nostra ecco che cosa dobbiamo tutti essere per raggiungere il fine del sacrificio di Gesù e adesso sentite la domanda e la riflessione che Madre Martini ci lascia ma chi ci pensa a volte di tutti i cristiani che assistono alla messa nessuno lo pensa neppure il prete che celebra o quale riparazione esige una tale indifferenza non c'è non c'è altro da aggiungere bene che dire ecco noi ringraziamo ecco la Madre Martini vi ricordiamo che loro alla termine della messa fanno sempre le sette all'adorazione eucaristica le sette parole di Gesù sulla croce chiudendo poi con il Magnificat ecco noi dobbiamo incarnare queste cose in noi nella nostra fede e quindi nel nostro cuore ecco che loro si sono immolati così come avete sentito no l'Eucarestia è il Calvario e la Chiesa questi sono come abbiamo letto dalle lettere sono i tre cardini sui quali si fonda questa fondazione le figlie di Gesù del cuore e le figlie del cuore di Gesù ecco e beh insomma se no scusate stavo vedendo perché poi i nomi sono tanti ecco allora ci pensiamo anche noi ma chi ci pensa più dice Madre Martini noi dobbiamo incarnare fare nostro e in questo sacrificio eucaristico entrare perché è lì che ci giochiamo tutto il mistero della Santissima Trinità e soprattutto i suoi benefici ecco quindi ricordiamo Eucaristia Calvario la Chiesa ecco qui e se noi ci facciamo caso possiamo anche integrarli nei tre amori bianchi di San Giovanni Bosco l'Eucaristia la dolorata la Vergine Maria la usiliatrice se diciamo il Calvario chi c'era ai piedi di quella croce e che regalo ha fatto un Dio dalla croce ci ha regalato sua madre e alla madre ha dato l'umanità quindi la madre e la Chiesa perché naturalmente madre Martini prega appunto ha fatto proprio la preghiera per i sacerdoti per il Papa ecco chiediamo allora la grazia della Vergine Maria che ci accosti lei madre del Sacro Cuore di Gesù madre del cuore Sacratissimo di Gesù e quindi invochiamo anche il suo sposo Castissimo San Giuseppe perché possiamo fare questi percorsi di consacrazione è in modo vero ecco e Eucaristia Calvario Vergine Maria la Chiesa non si scappa sotto la tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova ma liberaci da ogni pericolo o Vergine gloriosa e benedetta o Beata Martini prega per noi e aiutateci in questo percorso laudetur Iesus Christus sempre laudetur Ave Maria e grazie a tutti Grazie 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 a tutti